Oggi voglio parlarti dei linguaggi di programmazione che ti danno i superpoteri. Più seriamente, voglio parlare di quelli che io chiamo linguaggi domain specific, cioè quei linguaggi che permettono di eseguire in maniera semplice solo una determinata operazione. Non scriverai un'applicazione intera con questi linguaggi, ma se li utilizzi in una parte della tua applicazione, o durante il processo di creazione della tua applicazione, ti sembrerà veramente di avere i superpoteri. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Cominciamo dal linguaggio domain specific più conosciuto ed utilizzato. SQL è un linguaggio che permette di eseguire operazioni su database relazionali in maniera dichiarativa, senza dover entrare nei dettagli su come eseguire queste operazioni. Anche se SQL è un linguaggio standardizzato, in realtà ogni database engine implementa il proprio dialetto, le proprie varianti del linguaggio, e non esistono due database engine che implementino SQL allo stesso modo. Questo significa che migrare i dati da un database engine a un altro diventa molto più complicato del necessario. Esistono delle librerie che fanno object relational mapping, tipo SQL e Alchemy per Python, che mappano oggetti, nel caso di SQL e Alchemy intendo oggetti Python, a tabelle del database, e ti permettono di interfacciarti un database senza bisogno di andare a scrivere codice SQL. C'è chi piace questo approccio, c'è chi non piace. Personalmente preferisco interfacciarmi col database direttamente utilizzando SQL, così da avere controllo totale sulle query. Ma capisco anche chi preferisce ragionare oggetti e lasciare che la libreria ORM faccia tutto in automatico. Veniamo ora ad un linguaggio che ti dà veramente i soprapoteri, le espressioni regolari, detti anche regex. Sono in pochi a capire veramente le regex. Basta che guardi l'esempio in questa slide e ti rendi subito conto che è un linguaggio difficile da leggere. È quasi come se il gatto avesse camminato sulla tastiera premendo tasti a caso. Un altro motivo per cui le regex sono in pochi a capirle è che la maggior parte della documentazione che trovi in giro ti dà due nozioni sulla sintassi e si ferma lì, senza insegnarti a ragionare secondo le regex e senza dirti i campi di applicazione possibili. A mio avviso, l'unico modo per imparare come si deve alle regex è il libro Mastering Regular Expressions di Jeffrey Friedel. No, questo non è un video sponsorizzato. Ok, tutto bello, ma cosa sono le regex? Si tratta di un linguaggio per descrivere porzioni di testo per poi eventualmente andare a modificare la porzione di testo trovata. Detto così mi rendo conto che sembra complicato, ma ti garantisco che è un linguaggio molto utile, direi indispensabile, ogni volta che hai a che fare con del testo. E visto che quando scrivi programmi il codice del programma è testo, conoscere le regex è utile anche per l'opzione trova e sostituisci del tuo editor di testo. Stai utilizzando un editor di testo per programmatori, vero? Oltre che negli editor di testo, e come libreria all'interno di altri linguaggi di programmazione, le regex sono utilizzate anche da varie utility Unix, come SED, GREP e AVK. Purtroppo, come avevamo visto con SQL, anche le regex non sono un solo linguaggio, ma ci sono almeno tre dialetti simili tra di loro, ma con alcune sottili differenze. AVK prende il nome dalle iniziali dei suoi tre ideatori, Aho, Weinberger e Carnigan. Sì, quel Carnigan. AVK viene normalmente utilizzato da riga di comando come filtro per trasformare il testo datogli in input ed estrarre solo le parti del testo che ci interessano. AVK tratta il testo come se fosse una tabella, con righe e colonne, che di default corrispondono rispettivamente ad una linea ed una parola. Per darti un'idea, il codice che vedi nell'esempio produce come output la terza e la quarta parola separate da tab di tutte le linee di testo che contengono la lettera A. Perl è un linguaggio nato a fine anni Ottanta dall'Herry Wall per sostituire SED, GREP, AVK e Shell Scripting. Gode di cattiva fama perché è un linguaggio poco leggibile e negli anni 90 è stato utilizzato come linguaggio General Purpose, soprattutto in ambito server e per scrivere alcune utility di sistema. All'engine regex più potente al mondo. Quindi, se invece che utilizzare male Perl trattandolo come linguaggio General Purpose, lo tratti come una versione estremamente potenziata di SED, GREP e AVK, scrivendo i cosiddetti one-liner da riga di comando, ecco che ti ritrovi tra le mani un altro strumento che ti dà i superpoteri. Il codice che vedi nell'esempio è un trova e sostituisci che sostituisce il primo carattere di punte virgola non racchiuso né tra singoli apici né tra doppi apici col simbolo a chiocciola. Normalmente usaresti il comando SED per questa operazione ma descrivere questo pattern con l'engine regex di Perl è molto più semplice. Vediamo infine lo Shell Scripting che si tratta semplicemente di scrivere programmi utilizzando la Shell del tuo sistema operativo. Se vieni da un ambiente DOS o Windows e stai paragonando lo Shell Scripting a scrivere dei file .bat, beh, non c'è paragone. Le Shell dei sistemi Unix-like sono dei veri e propri linguaggi di programmazione con tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un linguaggio procedurale. Se invece vieni da Windows e mi dici che PowerShell è molto più potente bene, sono contento per te. Anzi, ti dico che PowerShell è disponibile anche per Linux se vuoi. Per tutti gli altri, invece, consiglio quantomeno di imparare lo Shell Scripting con la Shell Bash se non altro perché installata di default su qualsiasi sistema Linux. Spesso gli Shell Scripts vengono utilizzati per compiere operazioni su più file. Lo script che vedi nell'esempio converte tutte le immagini JPEG presenti nella directory corrente in PNG sostituendo al nome del file PNG l'estensione da JPG a PNG. Concludendo Dei linguaggi che abbiamo visto a parte SQL con una bestia a parte la cosa bella è che si complementano. Cioè io posso fare uno Shell Script dove uso AVK e Perl e all'interno degli script AVK e Perl uso le RGX. Se fai il programmatore hai a che fare con file di testo molto più di quanto immagini. Anche se mi dici che il tuo programma non tratta assolutamente file di testo io ti faccio una domanda. Cosa sono i file sorgente con cui hai scritto il tuo programma? Esatto sono file di testo e quindi imparare i linguaggi domain specific illustrati in questo video ti facilita enormemente la vita quando hai a che fare con operazioni ripetitive nel tuo codice o devi fare refactoring. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao